Grazie, è una bella presenza. A Corrado parla molto, io parlo pochissimo, per cui sono ancora più breve, lasciando lo spazio agli artisti. Ogni paese deve essere aperto, penso a ogni possibilità di esibizione culturale, di partecipazione alla vita sociale. Noi pensiamo, nel nostro piccolo, di farlo ogni volta e di avere possibilità a chi è rito ospite di esprimersi in questa sala in altri luoghi. Per cui ringrazio i nostri artisti, se si vedano in un icono, sono molto curioso di sentirli, di vederli all'opera, e se vanno a trovarsi una volta, penso che le porte sono sempre aperte. Saremo veramente adorati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signora, la forte mia, vorrei ringraziare sempre per grande affetto e simpatia nei nostri confronti l'assessore alla cultura, signora Liliana Salini, che è qui con noi. Non poterlo mancare assolutamente. Io ringrazio ancora di essere stata l'invitata, perché l'anno scorso, come già ha detto Corrado, anche io sono rimasta veramente affascinata da questa manifestazione, quindi soggiati anche che quest'anno sarà altrettanto. Grazie. Faremo del nostro meglio.